buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video di sample e 096 io sono papi oggi giocheremo come potrete vedere a romlox non sento niente non c'è audio alza la voce massimo non c'è audio ovviamente perché sul telefono c'è audio non saprei perché vai più a sinistra 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 ancora fermati qua guarda qua devi andare qua e devi entrare dove si è scritto freddy perché ora fare molti meccasso e dove si è scritto freddy ma non vedi qua ucn e me che c'è scritto fra acquisto freddy ok ora entra nella pizzeria di fnaf di fnaf cosa e di fnaf casol night e prendi il monitor l'ha preso credo perché sul suo telefono si possono tenere soltanto le cose inventario se tolgo la torta ok ti chiudi l'inventario l'inventario e pigliammi cino questa cosa qui perché sta in seconda persona ecco qua e le ho presi ora chi l'ha disattivata che non c'è audio non capisco ma eppure sta al massimo dai cerca l'ufficio cerca l'ufficio siamo l'aglosti non sta qua se è già sveglionata lo dico ma lui dico di dove allora se questa è la cucina sta qui giusto eccolo qui l'ufficetto ecco di qua buono dove stai io non ti vedo dove stai tu eccolo ah sei freddy nell'angolino togli la torcia e guarda prendi la torcia a te ci sta l'audio stavano dicendo che dove che dovevi esplorare oh yes quindi preparati della grossica se vuoi la torcia apri la porta già aperta la porta cerca di fregarmi ricordati ma dall'altro lato sta aperta la torcia sta chiusa cominciamo a aprire qui ok qui che ci sta però non si vede niente mamma mia è una specie di sala gioca non si vede niente eh ma io non vedo niente scusami meglio se mettovi su notturna perché se no non vedo niente e non vedo niente e non devi e non devi e allora che gioco a fare se non vedo niente con tutta la glow stick non vedo niente poi se c'è la glow stick in mano non posso chiudere la porta poi non senti un'altra non senti neanche niente qua queste sono queste teste di morto qua che sono queste teste di morto bam guarda che sono entrato eh ma io non vedo niente come faccio a vederti ok si sono accese le luci quindi sono le 6 am fratello è finita la notte non è finita però molto meglio così qualcuno aveva staccato la corrente non capisco perché non si vede niente qui siamo ancora a natale ci sono ancora i regali è passato natale ragazzi questo che cos'è è un altro ufficio io non l'ho mai visto però sai questa zona è vero ah questo sai dove sei dove questa è la zona dei tuoi freddi che devi fare il mini gioco di quella scopa che si chiama mister anche tu hai fregato mi hai fregato ti ho fregato si ma se tu c'hai il run è normale non è vero che c'hai il run si c'hai il run non è vero qua si chiude questo condotto qua no non si può vedere no a parte perché sto giocando in prima persona che io non so giocare allora andiamo a esplorare questo è cos'è il proesone porta questa è una specie di sicabuzzino però porta da qualche altra parte ma qua ci sta la libertà qua ci sta la libertà e vedete entrare la libertà qua dove si va qua si va sopra tutto ah si sale però che figo sul tetto fighissimo da qui si vede tutta la città bello qua su voglio salire qua su ho un po paura però eh un po paura ce l'ho che salire qua su cosa si vede qui non andare avanti perché dai vai giochiamo perché non andare avanti sei caduto giù ti aggiungo pure io salta va bene semplicemente notte è diventato giorno sì però comunque però comunque non è ancora qui la porta era già aperta i palloncini in faccia bam dietro i te eh patate le cipolli faccio le l'hai ah ti stavo pregando con un doppio passo all'indietro io davvero perché te lo so volentamente eh in realtà non è facile comandarlo qui che ci sta tenda la banca di foxing ah tenda eccoci oh ti ho sbattuto la tendina in faccia oh ti ho sbattuto la tendina in faccia poverino oh tenda in faccia tenda davvero mamma sto tenendo un te oh lei tu tenmi la tenda bam ti ho sbattuto il tendino in faccia come l'hai dato anche i soviti di te eh è una sedia un'altra sedia Qui ci sono i playground, posso salire sui playground? Non puoi, non puoi Perché no? No Non si può giocare col playground E che li mettete a fare se non si può giocare? Però nelle palline li posso buttare, no? Sì Qui c'è una porta, che porta hai? No, è la porta della cucina E che c'entra? Perché me la dici qua giù? Posso salire però così, guarda Uh, si è buggato, si è buggato Si è buggato Si è buggato Si è incastrato, non esce più Si è seduto Se vuoi giocare in seconda persona E forse è meglio perché non vedo niente Qui c'è un altro palco su cui possiamo salire Si, questo è il mio palco E dove sta la tenda? Io vengo da sinistro La tenda dove sta? Non si può chiudere Perché non c'è, non è che sta dietro la scava come l'altra volta, qui dietro? Secondo me si si chiude da qui? Ah, non si chiude da qui? No, dai Come mai? E' bo Guarda, mi hai fregato E io ho fatto pure il run E lo metto E vabbè c'è il run Tu, è normale Non vincerò mai così Allora abbiamo detto Qui che c'è? Sala giochi Ah, questa è quella Prima stavamo al buio Andiamola a esplorare a sto punto Una volta che ci sta Ma questo è dove si lancia il gioco dei premi Vedi, angolo dei premi No, questo è dove devi comprare i peluche per baby Le liner bonnie per gli altri Madonnado Mamma Ma che cappero Poverino, non mi vedi nemmeno nella seconda persona Questa è la cucina Sta sempre qui la cucina Sempre alla sinistra dell'ufficio Che ci sta qua? Sempre una pizza aperta Qua sopra ci sta? Qua c'è una mente che non si può passare Ovviamente Qui dove si va? Ah, questa è la cambusa Dove si conservano tutti i cibi Diciamo Dove si stipano i cibi Oddio C'è stata la porta in faccia Che c'è successo? Si è sbuggato? Si è buggato? Ti avevo sbattuto la porta in faccia Oh, oh, oh Non ci sei riuscito Non ci sei riuscito Qua si esce Qua c'è un estintore Qui che c'è? Il bagno? Sì Quanti bagni ci sono? Uno? No, questo è uno spogliatore Non è un bagno Levati, levati Si apre questo armadio? Sì È entrato dentro con te? Volevo leggero in faccia Poverino Ma che ha fatto questo? È impazzito Oh, porta in faccia Non è vero Non è ancora qua Idiota Poverino Levati se c'è il figato 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 Voglio la libertà È entrato Non la libertà Questa è così Un altro ufficio qui Ah, qua dove si attiva la corrente Eh, questo sale Scende sopra Sotto Oh Oh, poverino Mi diventa un altro animatronic Dai, cambia animatronic E facciamo il saluto Ma no Dobbiamo farlo Rompere un po' Poi faccio il saluto Allora Fanno a scegliere uno Oh, il mio preferito Sceglio Ho scelto il mio preferito Ti sto aspettando, eh Non so che è qui sotto le porte No, non è qui sotto l'aperta Vedi Guarda, sta aperta Guarda, sta aperta Grazie Allora, questa l'ho vista già Sì, questa è la sala giochi Questa l'ho vista già Poi Questa l'abbiamo vista già La cucina Esatto Qua ci sono i bagni L'abbiamo visto già Però non siamo entrati nei bagni Sì Sì, sono entrato Eccolo qui C'è un bagno C'è un altro bagno Eccoli qua Togli il ranna Se c'è il fegato Togli il ranna Io ho tolto il ranna Meno più il monitor C'ho Loser Loser che sei Ah 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 Quel paese Ah 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 Quel paese Qua non si scivola Qua sopra No Come non sta bagnando a terra L'ho scritto Caution Sì Qui dove si va Qui non l'abbiamo già visto Sì Che ci stava qui Porta in faccia Porta in faccia Porta in faccia Oh 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 chiam Oh Oh C'è freddo Io sono freddo No io sono bonti Tu sei bonti C'è freddo porta in faccia fratello finalmente oh vai bravo fai bravo dire la stessa cosa tieni metterla fuori non ti ho detto che se mi chiede una volta che faccia per una volta io metto il run oh metti il run e chi lo vuoi dove sto run e chi lo vuole che tanto io ti piglio io mi siedo un po' sono stanco qui che ci sta ma tu ce l'hai proprio questa volta delle porte ma talmente che ti preoccupa di pigliare una porta in faccia non è un problema fratello direi te la sbatto in faccia non è vero io sono qua oh 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 volevi volevi trucchetto si fa una finta che vai in avanti così il pollo ti segue il chicken e dopo che ti ha seguito il chicken tu gli sbatti la porta in faccia anche se c'è il run ma che succede qua al palazzo dentro o fuori non si è riuscito niente queste c'erano le pizze vicine ai muri ma stanno fuori con la testa guarda qui chi ci sta the new face of fun poverino poverino io te l'avevo chiusa io in faccia a te io ho sbattuto la porta in faccia veramente te l'avevo chiusa io a te no te l'avevo chiusa io a te mamma togli il run se c'è il figato no ahia ma che sta facendo questo voglio capire qua che ci sta poverino io ho sbattuto la porta in faccia io ho sbattuto la porta in faccia ah qua si vede l'ufficio vedi c'è un finto specchio allora perché di là non si vede oh mi sono sbattuto ho sbattuto tutte le porte in faccia c'è uno specchio finto qua perché io non lo vedo da là poverino fammi aprire voglio vedere all'interno com'è fammi entra voglio vedere se c'è uno specchio muoviti apri c'è uno specchio che dove sta guarda ah questo è un finto però si ah ma si riesce a vedere qualcosa di là però non è proprio un finto specchio perché si vede c'è la luce UCN vedi c'è quella scritta UCN sul muro ma si entra anche da qui si no da qui no si va solo dall'altro lato vedi previ c'è solo da qui guarda si entra qui e c'è scritto UCN vedi questa è quella scritta che si vede dal muro vedi poi dove si va no là perché ci sono lì ah questo è il fatto delle scale che ti fanno uscire fuori no qua perché cioè voglio il condotto là non si contiene il condotto no ah si esce anche da qui c'è una porta anche qui luce guarda quello come corre guarda quello come corre guarda ma non è giusto però tu con il doppio di me è normale che io non ti fregherò mai vabbè ragazzi vi mostriamo un poco tutta la città mettiamoci qua su e facciamo il saluto dall'alto tra un po' guarda così vai devo andare tanto se una cosa se dice sono più fanno toglieranno oh non lo so nemmeno saltare da su ma non ce la faccio saltare io ce la faccio saltare guarda guarda un po' guarda un po' e poi io ce l'ho fatta vedi guarda bam ce l'ho fatta ti dirò di più sto proprio sul tetto del mondo io sono sul tetto del mondo figo da qui perché sto saltando figo da qui figo e ti dirò di più adesso ti frego e ti sbatto la porta in faccia non mettere il rano se c'è il fegato se c'è il fegato non mettere il rano da dove sei entrato che carogna conoscevi un passaggio segreto io non lo conosco questo passaggio sì sono entrato dalla porta principale e io perché non sono entrato da lì poverino ho trovato un'ambulanza sì però ti ho sbattuto la porta in faccia aspetta che c'è un camion vediamo che ci sia non c'è il modo di gestire la corrente si può entrare lo so però non si può chiudere la porta no poverino ti ho sbattuto la porta in faccia ah qui ci sta una porta sì questa è la libertà qua sei riuscito ti ho fatto tutte le porte in faccia ti ho fatto tutte le porte in faccia questa è la corrente te la stacco e ti faccio accusare a peste eh sì fammi accusare a peste ma devo trovare la come si chiama qua la corrente a me mi pare che stava qui non c'è no qui non c'era dove stava io lo so dove stava forse lo so stava qui qui intorno giusto qui non c'è poi perché vuoi soffrire che freddi chi è costui stava qua dentro forse la corrente forse qui forse qui forse qui no qui non c'è un c'è qui e questo è l'ufficio dove stava allora io lo so dove stava aspetta io mi ricordo che si usciva e si andava a sinistra qui giusto doveva essere qui intorno ah che peccato questo video è quasi finito qua dentro forse è qui che stava la corrente va bene va bene psss la chiesa ha tirato un altro la chiesa ha tirato un altro ma chi un altro oh chiesa chiesa destra e chiesa destra io mi so perso non so più dove sto papà io li ho chiuso tutti e due ma io non so più dove sto sei bloccato nella camera penso di essermi perso non so più dove sto a parte che sto piano tutti i muri tutti li sto beccando no uno si no tutti ah forse lo so adesso si è stava qui non te la fa più disattivare ma non so manco dove sta però c'è una cosa che posso fare vi posso salutare dalla telecamera vediamo eccola esci vieni a salutare con me dai io ho trovato la telecamera giusta quella del cordeo sinistro esci da sinistra mettiti accanto a me a quest'altro lato se no non ti vedo sedi dalla telecamera ok ragazzi questo video si conclude qui se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale sempre 096 e metteteci un bel like ci vediamo al prossimo video mettiamoci in ufficio e continuiamo il saluto ok mettiamoci in ufficio come si fa si toglie il monitor e mettiamo in ufficio mannaggia per poco ci vediamo al prossimo video ciao da papi ciao a tutti ciao 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 ciao